Tan 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 Che sta succedendo? Oggi siamo su casa contro casa, casa nascondino contro casa che si vede tanto Quindi casa, Arctic Runner quando gioca a nascondino, Arctic se non lo conoscete è quello che fa a nascondino con Lion Sì sono io, eccoci Moriamo sempre per primi perché facciamo schifo a nasconderci E' vero, è vero In questo video noi dovremo allenarci a nasconderci bene Arctic farà la casa più visibile che esiste E ho scelto il diamante come blocco, come i tuoi capelli, in tuo onore Infatti se mi vedi da dietro la mia testa sembra un bel blocchino di diamanti Non mi prenderà picconati però eh Non esce niente, non c'è niente dentro la mia testa Esatto ragazzi E invece io userò questo blocco invisibile Dovrò fare la casa nascondino Vedete si chiama anche blocco nascondino Mi è uscito, non lo so cosa ho dal naso Oggi abbiamo il mantellino dell'invisibilità Infatti come potete vedere qui dalla manica Poi diventa invisibile Quello di Harry Potter E infatti noi saremo Dove sono Ale? Eh ti vedo le particelle lo stesso Eh ma dove sono? Eh però La nostra casa nascondino servirà per non farla vedere da nessuno Nessuno dovrà vedere la nostra casa invisibile Questa è una casa invisibile E nella nostra casa invisibile Ci dovremmo mettere degli oggetti invisibili Solo che non si può Non si può mettere degli oggetti invisibili Non so ancora cosa metterci dentro Si può fare una porta invisibile Si può fare una porta invisibile se Non mettiamo la porta Facciamo finta che c'è una porta invisibile Possiamo fare questa cosa qua Give Loki Minecraft Barrier E lo trogliamo Lo trogliamo Si quando lui verrà a vedere la nostra casa Vedete? Quando lui verrà a vedere la nostra casa Lui vedrà queste cose qua Però non riuscirà a passare di qua Perché quando noi lo togliamo E lui non ha questo blocco in mano Guardate cosa succede Non si vede niente Quindi lui non potrà entrare in casa Perfetto E questo sarà il primo troll Metteremo tantissimi piccoli trollini Che non gli permetteranno di passare Dentro la nostra casa La nostra casa sarà invisibile E inaccessibile E inammissibile E imbevibile La nostra casa non si può bere Perché non la vedi Se non bevi Non ci credi Cosa sto dicendo? Comunque mi si stanno attorcigliando un po' gli occhi Se la vedi da lontano Ma molto lontano Non sembra neanche una casa Perché effettivamente non abbiamo ancora fatto niente Vorrei fargli però anche il tetto Che vi ricordo sempre che il tetto è Il marito di? Se volete scriverlo nei commenti Però vabbè In realtà a lui gli ho dato un'altra texture pack Questa a me serve per vedere dove sto costruendo Quindi ci sono questi spazzettini neri qua Ma in realtà lui ha un'altra resource pack Con un'altra texture E lui questo blocco non lo vede così Lo vede senza i bordini neri Per lui sarà impossibile capire Dove sono i muri Dove sono le cose Non riuscirà ad entrare Da nessuna parte Lui sarà tutto Oh Lory ti prego Non riesco ad entrare in casa tua Ma come si fa? Di qua c'è la porta E invece no Ci sono i blocchi invisibili Non vedo l'ora di trollarlo No ma io non ci ho pensato Ma il bagno? Come deve essere il bagno? In bagno ci vedono tutti Cavolo noi quando andiamo in bagno Ci possono vedere tutti il pepino di fuori Ma no Diciamo che questa casa Non è stata studiata molto Molto bene no? Perché insomma Se ti devono vedere tutti Mentre fai la pippi La pippi Ma è vero Noi Non esistiamo Vedete? Sono gli oggetti volanti Non può vedere Noi mentre facciamo la pipì Giusto 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 Ci avevo già pensato Era tutto calcolato E adesso dobbiamo fare tipo delle scale Fatte con Eh Delle scale invisibili Le scale le facciamo qua Che scendono Quindi questo è il primo blocco di scala Questo è il secondo E questo è il terzo Ma andiamo Oh mio dio Dove stiamo andando? È finita la mappa qua Cioè quindi è veramente tutto invisibile anche sotto In realtà non c'è nessun nascondiglio Cade il cuore anche se in creative Sì 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 Ce l'abbiamo Siamo intelligentissimi È il nascondiglio della casa nascondino Qua togliamo tutta la bedrock Così che lui non capisce che questo è il Ah Oh mio dio Stavo cadendo No Mi è finito Aspetta Ok così non può vedere quello che facciamo Una doppia cesta Si può aprire Sì Dentro ci mettiamo un sacco Di diamanti Ecco qua Ci mettiamo un sacco di diamanti Qui dentro E dopo lui Quando arriverà Sì 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 È un'idea geniale E lui dice come fa? Perché c'è un blocco invisibile anche sotto Lui va sotto così fa E cade Sì sì È geniale È geniale Sono un genio Allora qui ci sarà il nostro bagno Vediamo qua Ok Lui pensarà di vederci Dice Che cosa è stupida Bla 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 E non è stupida perché non ci puoi vedere Arctic non ci puoi vedere qui sotto È impossibile che tu ci veda Ecco La riempiamo di un po' di pipì Oh che bella la pipì Riempita così nel bagno Ma adesso che ci penso Possiamo trollarlo così Lui entra dentro E deve fare un labirinto Deve fare un labirinto così Per andare al bagno Lui dovrà andare di qua Voi dite Ma che casino è Si vede tutto Non può essere una casa nascondino Questa casa qui La si vede da lontani Due milioni di chilometri Ma se noi facciamo così Iniziano a sparire pian pianino E non si vede più niente Ecco qua Il nostro frigo è qui E la nostra cucina È qua Con la cappa Sopra così Perfetto Bellissimo Poi Oddio mi sto incasinando anch'io Mi sto perdendo anch'io nel labirinto Ok Perfetto E adesso dobbiamo andare a sostituire di nuovo Questi blocchi qua Con il blocco nascondino Ecco quel blocco nascondino Ok Perfetto Non vedo più niente Non capisco dove sto andando Lui non ci capirà niente In questa giungla di blocchi Non ci capirà niente Nella nostra giungla Di blocchi barriere Ah Oh cavolo Stavo cadendo anch'io Oh mio dio Aspetta non vedo più niente Aspetta Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Questo è il secondo piano Sembra di camminare sul vuoto Ma in realtà Ah È troppo bello Possiamo mettere anche il green screen Perché io sto usando un green screen Dell'elgato Che mi hanno gentilmente fornito Ah ecco Lo chiamiamo green Anzi no Lo chiamiamo elgato Green screen Ci sta? Sì Elgato green screen Questo è il nostro elgato green screen E volendo possiamo fare un green screen gigantesco Così che nei video diventiamo trasparenti Come questa coperta Ma voi mi state vedendo tutto il video? Io non ci ho ancora fatto caso Però in realtà voi mi state vedendo da tutto il video Che io sono Sono tutto trasparente Ci ho fatto Cioè ci ho fatto caso solo adesso Aspetta Facciamo così E dobbiamo prendere Il cemento verde Questo qua Che il numero è 251,5 Quindi facciamo così E così E facciamo Slash slash set 251,5 Ok E questo è il nostro Green screen Per nasconderci agli occhi Dei curiosi Ah Aspetta Ogni volta mi spavento per sta cosa Possiamo fare Una piscina Invisibile Ah Dov'è l'entrata della casa mia? Aspetta Forse me la ricordo Ormai ve la ricorderete anche voi Perché l'avete visto un sacco di volte Qua facciamo una bellissima piscina Ma Invisibile E lui ci si tufferà dentro Sicuro Sicuro Vi dico C'è l'acqua invisibile C'è l'acqua invisibile Facciamo così Sì 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 Lui perché è stupido Lui ci casca E pensa che la piscina È veramente Invisibile Sì Lui ci cascherà sicuramente Ok Facciamo così Set Ah Ok Aspetta Dobbiamo riprendere il trampolino Dov'è il trampolino? Dov'è il trampolino? Così è Per Fe Ta Io non vedo l'ora che lui arrivi E veda E il gatto green screen Con il green screen dietro La casa totalmente invisibile E ci si perderà dentro Poi Andrà nella piscina Cercherà di prendere i diamanti I custoditi nel sotterraneo Ma cadrà Nel vuoto E morirà Il nostro scopo è far morire Arctic Sì Ragazzi È arrivato il momento finalmente Che lui veda la mia casa green screen E tu vedrai il mio chiamante Chi inizia? Questa è invisibile Proprio quello che non si può notare in un nascondino Allora Ok Sto per togliere Mettiti al centro Così facciamo la reaction Tutte e due Stavolta non c'è il muro di pipì Meno male Meno male Allora Set zero Uoooooo Ma lo sa che È un filino Asimmetrica No Ma lo sai che nel mio video ha detto Penso che non lo noterà mai È un filino asimmetrico Ma è fatta apposta per l'interno Poi vedrai l'interno Ah è fatta apposta per quelli che odiano Il fatto Ma tu mi vedi? Scusa che ti vedo Ok È fatta apposta per farsi vedere di più Perché quelli che odiano L'asimmetria Facciamo così Iniziamo dalla tua Ok allora ti guido Però non so dove sei Ti guido lo stesso Allora qui c'è pure un cartello di benvenuto Benvenuti È certo Perché tu sei gentile Nei Sì ma l'ha noterato Nei nascondini È vero Fai sempre i complimenti Allora Ah spai che non c'è vado niente Sei entrato Bello Proprio Come non farsi notare Con le lucine di Natale Esatto Anche l'interno è visibile Allora intanto ho messo qualcosa inerente al Natale Così chi viene può anche rubarmi i regali Da bravo Ecco cattivo Allora iniziare dalla mia cucina Di qua Ancora Natale Sì qui è il mio letto Bello Qui c'è la cucina No l'azzurro è il mio Ale È il tuo letto No qui dobbiamo chiarire una cosa Il mio canale Io sono l'azzurro Tu puoi fare tutto quello che vuoi Ti prendi il ciano Ma era in Allora ti ho detto che la casa era in tuo onore No ti prendi il ciano Ma era in tuo onore la casa Ti prendi il ciano Ti prendi il ciano No hai preso tu ok Ciao ciano Ciao ciano Bella Secondo i video ti saluto Bella sta cucina Qui c'è la cucina è molto compatta E c'è tutto quello che serve per sopravvivere Ma non è vero Non c'è il frigo Non c'è il forno Non c'è il fornelli Sono Arctic Congelo tutto io Ma ti pare Ancora che ascolto Allora qui si scende poi Allora scendendo abbiamo qui un'area Che è abbastanza ristretta C'è un bagno Che è bello nascosto Infatti tu non l'avrai visto C'è qui il bagno con la toilette Io non so se tu sei seduto sopra Ma guarda che non c'è l'acqua nel lavandino Aspetta che te la metti Ah grazie È un po' pipì quella Vabbè va bene lo stesso È risalito dal water Poi L'essenziale E poi c'è lo studio Dove prepara i video Chiaramente Uno entra qui dentro Ci si può sedere qui Ok Poi si può accendere la luce Non posso metterla su un comodino Perché l'altezza purtroppo è quella che è Ci dobbiamo adattare Però Abbiamo una fantastica tv Per guardarci anche i tuoi video Che carichi l'occhi Da qui ci guardiamo i tuoi video Ok Tanto sono pochi Sono pochi Quindi è sempre spenta di solito Questa tv qui E questa è la mia casa diamante Ma lo sai che il ventilatore si accende Guarda Eh sì sì esatto esatto Però non lo volevo accendere Perché fa già freddino Ma io dove sono? Non lo so Ah giusto sono invisibile Infatti non ti vedevo Ti piace la mia casa? Ho fatto un video con l'occhi Ma secondo me non è vero Fake questo video Non c'era Non c'era nel video Molto bella Vogliamo andare a vedere la mia? Sì andiamo a vedere la tua Io comincio a andare Tu ci hai messo 30 minuti a fare sta roba Ok Vai Ok Prego Allora aspetta Ti devi mettere in adventure mode Ok C'è un motivo Vabbè Ti sei messo? Sì ora sono in adventure Ok perfetto Mi vedi? No Perfetto Ok Allora ti faccio vedere Aspetta Ok ok Come puoi vedere dietro c'è un green screen Che è quello che sto usando adesso Per diventare trasparente con la testa volante Qui Guarda il tappetino Qui Guarda il tappetino Qui io non ti vedo Ah giusto Ti bevi del latte All'ingresso Ok All'ingresso C'è il gatto green screen Ti piace? Ok aspetta Non entrare Non entrare Non entro Qui c'è un piccolo gioco Oddio C'è una pc Sì ti ho ritesturizzato anche l'acqua Ok Ma vuoi venire qui? Ma dove sei? Ah la piscina Ma qui non c'è Ah è vero sono invisibile Aspetta Devi saltare Devi saltare Ma sicuro? Lo senti il boeing Devi saltare sul trampolino È acqua invisibile Tranquillo Ma io ti conosco Vai salta Ma non c'è niente Ma sei un brutto cretino Ma io lo sapevo Perché mi fido sempre di questo brutto scemo qua Ma dove sono sponato? Ma porca miseria Aspetta i patitamente Eh sono arrivato Io non mi fido più di te Ma in realtà No no dovevi fidarti Guarda Aspetta devo fare così Vedi Non vedo niente Ah giusto Giusto Quindi vuol dire che stai facendo bene Se non vedo niente Continuo a saltare qui Aspetta 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 Guardami Oh finalmente Mi vedi Se salti qui ce la fai È la tua unica possibilità Mi fido Fidati Ah ma c'ho schifo Ma ma è schifo veramente Ti ho detto che è la tua unica possibilità Ok va bene dai Comunque sai che io non ti sto trovando Ok Ok C'è l'acqua Ci siamo Perfetto Allora Ok No Ale dove sei? No bevi il latte Ma come bevi Dammelo Ok grazie Ma perché sono Non ti vedo più Vediamo Posso vedere la tua casa dopo 30 minuti o no? Guarda c'è la mia sciocca Ci sono altre trappole Mi puoi vedere così Sì sì ti vedo Ti vedo Ok 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 Allora no Trappole non ci sono Non era una trappola Sei tu che non sei saltato bene Eh va bene Ok Adesso puoi entrare Ok Vuoi andare in bagno? Ma non posso entrare qui Ah C'è un labirinto invisibile Non ci sono C'è un labirinto invisibile Brutto Dai vai in bagno Vabbè sono arrivato in cucina intanto Va bene Dai cucina ce l'hai fatta Prova andare in bagno Ok ma è un macello È impossibile Loro probabilmente neanche capiranno come sto facendo Perché mi sto muovendo Ma io sto capendo Sono arrivato Sono alla masca del bagno Di pipì tra l'altro Ok Ok allora vai nella doccia Oddio Apri la doccia Oddio Stavo cadendo Nella doccia Non c'è una doccia Ma tu mi vedi Ma io non so come arrivare Ok sono arrivato Ok sei arrivato nella doccia Va bene Ah Perfetto Chiudila 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 Ok stiamo sprecando acqua No ok via Perfetto vai Adesso prova andare a dormire Se c'è il sonno Ti metto time set night Stai arrivando? Vediamo se riesce ad arrivare Stai arrivato ma sono un fenomeno No ce l'hai fatta Ma sono troppo forte Ok Va bene va bene Va bene ce l'hai fatta Adesso devi andare Al piano superiore All'enchanting table Oppure devi guardarti la televisione Ma io più o meno l'avevo trovata La strada era tipo di qua No? Oh Oh cacchio Oh cacchio Mi devo fidare? Oh no Ma io muoio di nuovo Lori lo so già Che cosa mi sta succedendo? Non capisco più dove sono Ma dove sono io? Forse qua Ale Ehi Come si sta Al piano di sotto No Fermati 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 Al piano di sotto No Non andare lì Non andare lì Torna su Torna su Come ci faccio Torna su Così? Salta Sì Pian pianino Salta Salta Devi andare al piano di sopra Devi trovare il piano di sopra E trovalo È impossibile È uno schifo Ma tu Ce l'avrei fatto vedere Io non lo Fatti qua Sembra che salta come un pazzo Ma è tutto invisibile Dai non è di lì Acqua Acqua Ok Focherello Fochetto Ah 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 Ce l'hai fatta L'ho trovata Bravo Bravo Vai alla televisione adesso Ok Devi sederti sul sofà Ce la fai? Oh Sto maledendo Sto maledendo Quella È una poltrona assassina È una poltrona assassina Vabbè Come si fa? Ok Trova andare alla televisione Cambia canale Ok Aspetta Accendila Ok Non si accende Ok C'è un qualcosa invisibile che mi separa È rotta Vabbè È rotta Ma anche tu vedi la croft in tipo viola e nera È rotta sta roba Ok Prova a cliccarla Non so come arrivarci però Non me la fa cliccare Sono bloccato da qualche cosa Ok Quello non si può Non si può Non si può Non si può arrivare Mini sei un troll sei Mi freghi Allora adesso invece Posso scendere al piano di sotto Devi riuscire Ad andare a prendere i diamanti Ok Ti giuro che quella ceste È piena di diamanti È però anche di trappole mi sa No Non ci so C'è un percorso Devi trovare il percorso Ma si deve saltare Nel percorso Eh vabbè Eh devi saltare Devi fare un salto della fede Se tu salti Là ci sono dei blocchi Perfetto Devi trovare i blocchi Che sono nascosti lì Per fare quel percorso Devi riuscire ad arrivare ai diamanti No Sono morto Vai No lori ti giuro è impossibile Io te lo giuro Non si può fare Io te lo giuro C'è un blocco Mi dici fuoco Dimmi fuoco Acqua 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 Cavolo Oceano Madonna Alluvione Tempesta oceanica Dai ancora Foresta pluviale Ma come cavolo No impossibile Impossibile Fuoco Ok davanti a me Devi saltare davanti a te Ma un pelino a sinistra Di un blocco Lori non si può C'è il soffitto Ma come l'hai fatto Non si può saltare C'è il soffitto Aspetta Cretino Cretino e cretino Solo cretino Si può dire in questi casi Vai Prova ora Non si può Non fa C'è salto Invece Invece Puoi Aspetta Te lo faccio io Guarda Vediamo Fammelo tu Da invisibile Come si fa Eccola Non si fa Ce l'ho fatta Da invisibile Perché sono ancora invisibile E ce l'ho fatta Ma senza fi Mi devo fidare No Si può fare No Lori Basta Non ci arrivo Non posso prendere Quelli avanti Mi passano quelli Che ho nella mia casa No dai Ok Mettiti in un punto Mettiti in un punto Lori Ok 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 No Adesso è fattibile No Lori mi stai facendo imbessere Ti giuro Ti giuro che mi arrabbio Oddio Sono caduto io No Lori Non si può fare Adesso si Ce l'hai davanti Non qui Qua Lo vedi Se lo mi eri Salto Si Non si può fare Lori non si può fare Ce l'ho appena fatta E va bene Allora te lo prendi tu Oh ce l'ho fatta Perfetto Ok Prendi i diamanti Oddio Oh caffè È esploso No 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 Va bene Mi sa che sei riuscito A utilizzare tutte le mie trappole Nella mia casa invisibile Come cavolo si esce Da sta casa bruttissima Che schifo Non riesco a uscire Fa uscire Uscare Allora Mettiamoci qua Mettiamoci qua Siccome lo vedo Ok Si sono vicino a te Vai Facciamo l'outro così Di quello che devi dire Aspetta Lori Stai fermo Stai impazzendo Aspetta Ok Debollate Almeno mi vedi Ok Ok Allora Che arte che è tutto Lasciate un mi piace Votate Di qual è la cosa più bella La mia La mia Perché adesso mi ha fatto impazzire E ci vediamo al prossimo video Lasciate Diecimila mi piace Si è Nel mio video Ce l'ho fatta Lasciate diecimila mi piace Se mi avete mai visto In questo video Lasciate diecimila mi piace Se mi vedrete in questo video Ma sarà Impossibile Perché sono invisibile Casa nascondino Contro casa Supervisibile